Rimandare il più possibile l'entrata in borsa. È quanto chiedono i piccoli azionisti di Veneto Banca all'amministratore delegato Carrus. Sanno che la battaglia per impedire la trasformazione della cooperativa in spa è persa, come sanno che dietro a tutta l'operazione Banche Popolari c'è la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea. Sanno i piccoli azionisti che Veneto Banca è un sorvegliato speciale, con tanto, stando ad alcune fonti interne, di visita settimanale di un ispettore di Banca Italia. Ma quello che temono di più è che questa operazione porti l'istituto di credito maggiormente radicato nel territorio, dopo che Cassamarca è diventato Unicredit, nell'orbita dei grandi gruppi e soprattutto dei grandi fondi di investimento, assolutamente lontani dai bisogni di aziende e famiglie trevigiane. Il problema è anche che ogni giorno la BCE o Banca d'Italia naturalmente cosa fanno? Alzano sempre un po' la rasticella di quello che sono i parametri. Speriamo che in questo momento non li alzano ancora perché sennò andiamo sempre più su e naturalmente più aumenta a quello che è la prospettiva della BCE e più danno ci portano. Azionisti che sono consapevoli del notevole depreciamento delle azioni, molti sono già rassegnati agli 8 euro sui 30 investiti, convinti che solo uno spostamento della quotazione in borsa possa in parte mitigare la perdita. Se vai in borsa e allora il mercato purtroppo ci porterà a un danno economico a tutti quanti che sarà veramente un bagno di sangue. Difficile per la nuova dirigenza riacquistare fiducia dagli azionisti, soprattutto da chi ha promosso la fusione del proprio credito cooperativo per l'ideale di una forte banca territoriale. Sicuramente ci crederanno molto su una cooperativa come Popolare. Piccoli azionisti che non credono in un'eventuale ribalza sui passati amministratori. Non possiamo proprio condannare quello che è stato fatto, ci sono dei meriti e non dei meriti, ma questo non è che lo dobbiamo dire noi insomma. E alla nuova dirigenza chiara il messaggio di quasi 700 piccoli investitori. Avere a cuore quei piccoli risparmiatori che naturalmente hanno investito nei titoli di Veneto Banca, magari come si sta dicendo da tempo, il suo TFR e i piccoli risparmi per un domani nella vecchiaia che magari avessero bisogno. Grazie.